Sono contento di essere qui, è chiaro che quando c'è un cambio vuol dire che qualcosa non va. Speriamo di cambiare rotta, ho molto rispetto per il mio collega. A di là di questo io credo soltanto con lavoro possiamo ottenere i risultati che vogliamo ottenere. L'aspetto non è un compito importante, è un compito importante che dobbiamo lavorare e sono convinto che possiamo uscirne attraverso il lavoro. Quando ho sentito il Presidente ero convinto che c'è un programma dietro, sono convinto che la squadra è giovane, è chiaro che ho avuto parecchi problemi, sono convinto che lavorando, come ho detto prima, si possa ottenere il massimo. Poi quando ho sentito Avellino mi sentivo in dovere di venire nella mia città, vorrei chiarire subito, io sono di Montemarano, qualcuno avrà purtroppo un frainteso delle mie parole, perché io ho detto che ho vissuto da Avellino, ma poco, perché i miei genitori il lavoro non ce l'avevano e sono andato a Milano, questo è quello che avevo detto. E c'è stata molta polemica. Al di là di questo, ho detto anche al press, che aspettavo una sua chiamata prima, molto prima, non prima all'inizio della stagione. E sono convinto di essere in una società seria, una società che ha un programma importante, delle persone importanti. È ovvio che la Serie B è un campionato, voi lo sapete meglio di me, in un attimo si può salire, in un attimo si scende. Al di là di questo, io credo che qui c'è una struttura dove un allenatore può lavorare benissimo. Io sono convinto di quello che dico, del mio lavoro e questo non ci ho pensato un attimo, ero felice della scelta che si è posta nei miei riguardi.